salve benvenuti nel mio canale io sono salvo oggi vi spiego il menu degli allarmi menu degli allarmi allora questo menu ha tanti tipi di allarmi significa che abbiamo il motion video block video perso allarme in entrata allarme in uscita o anomalie varie vediamo il primo intanto per far funzionare questo dobbiamo andare ad abilitare selezioniamo la telecamera in questo numero 1 la sensibilità e la impostazione dell'aria dobbiamo selezionare l'aria che ci interessa quindi possiamo cancellare tutto e lasciare che so solamente questo pezzo qui quindi dove è selezionato e passerà qualcuno oppure si muove qualche cosa vi manderà un suono oppure possiamo farci mandare anche un email che vedremo più avanti come si inserisce un email sul nostro dbr allora possiamo anche impostare delle fasce orari quindi possiamo mettere ogni giorno della settimana quindi dobbiamo farlo 1 a 1 mettiamo sabato impostiamo dalle 0 alle 24 quindi 24 ore o possiamo fare che so un'ora al giorno o 12 ore e lo impostiamo come vogliamo noi li possiamo dare li possiamo dare alle 10 e quindi di sabato si è modificato quindi dalle 10 un minuto registrarà fino alle 24 e così via o possiamo annullarlo completamente quindi avremo solamente gli allarmi al momento che abbiamo selezionato abbiamo degli intervalli di due secondi uscita di allarme possiamo cliccare la durata 10 secondi se vogliamo che registri quindi mettiamo questa registrazione del primo canale siccome è la prima telecamera mettiamo registrazione della prima telecamera ma possiamo metterli anche che cominci a registrare tutti abbiamo anche il ptz e la durata il messaggio ci da un messaggio sul monitor ci scrive che è successo qualche cosa c'è stato un movimento abbiamo il grido il grido è uno speaker dentro il nostro dbr che incomincia a suonare un upload in ftp un server ci può mandare un email dove noi abbiamo selezionato il nostro indirizzo email e scrive anche un log sul nostro diario quindi abbiamo visto gli allarmi in motion il video block non è altro che se per caso qualcuno tenda di manomettere la vostra telecamera mette una mano o mette qualche cosa davanti alla telecamera per non farsi vedere incomincerà a mandare sempre o messaggi suona email e così dicendo video perso cos'è il video perso potrebbe capitare che la telecamera si brucia un alimentatore un alimentatore si rovina una telecamera non funziona più o qualcuno vi ha tagliato i fili possiamo farlo funzionare sempre con i nostri messaggi suoni email e scrive sul diario ovviamente possiamo rimpostare tutti gli orari come vogliamo noi come sempre il primo e così dicendo quindi questa potrebbe essere una buona funzione se abbiamo delle telecamere che sono messe lontani dal nostro dvr non le possiamo gestire molto facilmente allarmi in anomalia cosa sono gli allarmi in anomalia allora possiamo abilitare possiamo abilitare se per caso il disco si rovina quindi si rompe il nostro hard disk oppure si spegne qualche cosa oppure uno lo spazio insufficiente sul disco allora andiamo su nessun disco lo impostiamo e gli diciamo che se succede qualche cosa che il disco si rovina mi deve dare un messaggio un allarme e un email oppure si riavvia o si scollega messaggio un allarme e un email stessa cosa stessa cosa spazio insufficiente mettiamo abilità questo qua possiamo mettere il limite del 5% quindi se sta finendo l'hard disk impostiamo un 10% o un 5% al 10% o al 5% lui mi deve mandare un messaggio un allarme e un email impostazione di allarmi esterno sempre abilitiamo selezioniamo la nostra camera sempre la modalità normalmente aperto o normalmente chiuso questo è per il nostro contatto quindi possiamo attaccarli un allarme se abbiamo abbiamo il nostro appartamento dotato di un allarme con sirena e sensori possiamo dirgli che il contatto che c'è fuori deve essere dipendere dalla nostra centralina normalmente aperto o normalmente chiuso gli possiamo dare anche le impostazioni della fascia orarie e così dicendo sempre come quelli del motion e del blog possiamo dargli i messaggi il grido mandare un'email e così dicendo ovviamente anche su tutte le telecamere ecco qua per esempio mi dice che è solamente sulla prima, seconda, terza o quarta telecamera ma questo dipende da come viene configurato allarme in uscita tipo di allarme uno possiamo mettere installazione manuale lo spendo se le mie spiegazioni sono state di tuo gradimento puoi sostenermi con una donazione andando in descrizione qui sotto e cliccando il link metti un like e iscriviti grazie al prossimo video ciao